Ovviamente parlare di esplosioni è un parolone, però quando si parla di possibili rischi di incendio non c'è da scherzare. Ma prima di iniziare, sigla! Prima di andare al video vero e proprio vi ricordo che il miglior modo per supportare il canale è lasciare un mi piace e se siete interessati all'argomento di iscrivervi spuntando la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Prima di arrivare alle soluzioni cerchiamo un attimino di capire come effettivamente una stampante 3D potrebbe incendiarci casa. Alla base di tutto ciò ci sta una cosa chiamata per convenzione triangolo del fuoco. Se avete fatto un corso antincendio sicuramente sapete di cosa sto parlando. Invece per chi non l'ha mai sentito ed è la prima volta che lo sente, no, non si tratta di un rito voodoo o roba del genere, semplicemente una rappresentazione del processo fisico e chimico della combustione. Quindi per far sì che una combustione avvenga, diciamo, abbiamo bisogno di tre principali elementi. La presenza di un combustibile, di un comburente e una fonte di innesco. Il combustibile può essere di varia natura e questo potrebbe essere del legno, della carta, ma anche dei materiali plastici. Il comburente invece è una sostanza che agisce come ossidante per il combustibile durante chiaramente una combustione. Detto ciò una combustione non può avvenire senza questi elementi. Il comburente più comune ed è anche quello che ci tange maggiormente perché, insomma, siamo qui e siamo soprattutto vivi, è proprio l'ossigeno. Quindi come terzo ed ultimo elemento di questo triangolo abbiamo la fonte di innesco. Comunque nel nostro caso specifico, quindi nella stampa 3D, dove possiamo trovare questi tre elementi? Chiaramente devo partire dal primo che è il più ovvio, il comburente. Come vi ho già detto è l'ossigeno, quindi a meno di stampare in una camera depressurizzata, sicuramente ce l'abbiamo. Come combustibile invece potremmo avere un'ampia gamma, diciamo, di materiali che potrebbero per l'appunto prendere fuoco, che potrebbero essere dei pannelli in acrilico, come generalmente erano barra sono fatte alcune vecchie ed economiche Anet. I materiali plastici con cui alcune stampanti 3D sono fatte, ma chiaramente anche il legno perché alcune stampanti tempo fa venivano costruite in legno per vari motivi di praticità, cosa ormai sempre di più in disuso, però comunque il legno, come ben sapete, è un ottimo combustibile. Cosa assolutamente da non sottovalutare è che non solo la stampante potrebbe essere fatta da materiali che possono essere usati come combustibile, bensì anche materiali attorno. Il terzo elemento, quindi l'innesco, in questo caso è un pochino più complesso. Questo perché una stampante 3D può generare incendi di natura elettrica. Quindi diciamo che l'innesco avviene proprio per l'appunto per un malfunzionamento di un componente elettronico, di un cortocircuito, un surriscaldamento di eventuali componenti, eccetera, eccetera. In via teorica e anche un pochino il buonsenso ci porterebbe ad avere dei cablaggi e dei connettori isolati con del materiale a ritardo di fiamma. Ma come ben sapete alcune aziende su queste cose a volte tendono a risparmiare. Quindi dopo aver fatto questo enorme preambolo come possiamo mitigare il rischio di farci prendere fuoco tutto? Allora in primis verificate tutti e dico tutti i collegamenti elettrici che avete nella vostra stampante. Devono essere in buono stato, quindi non usurati, senza rame a vista e tutti i cablaggi devono essere inseriti correttamente nei loro connettori o morsetti. Inoltre controllate lo stato di movimento dei cablaggi che portano tensione agli assi. Questo perché ovviamente essendo delle parti in movimento andranno a stressare tutti i vari cavi in modo chiaramente maggiore rispetto che ad altre parti che non subiscono alcun tipo di movimento. Questo perché se per caso questi cavi per ore e ore e ore di stampa dovessero farlo nella maniera sbagliata, quindi concettualmente si vanno a creare delle pieghe troppo dure o comunque strusciano da qualche parte, l'isolante rischia di venire a mancare e quindi potreste causare dei cortocircuiti. Quindi diciamo che voi dovreste controllare che i cavi non abbiano dei problemi a muoversi, però diciamo per aiutarvi potreste utilizzare una guaina spirale, quella con cui ci si fondamentalmente organizza i cavi del computer, oppure stampare o comunque comprare una guida di tipo carro armato, quelle proprio rigide, che sono veramente ottime in veramente tante situazioni. Il secondo consiglio è valutate bene dove andate a mettere la vostra stampante. Sono sempre stato un po' dubbioso nel mettere la stampante dentro ad un enclosure di legno, perché chiaramente lì ci sono tutte le condizioni ideali per aumentare un rischio di incendio. Magari cercherei anzi di utilizzare strutture diciamo metalliche coibentandole con dei materiali di tipo ignifugo. Un'altra precauzione da prendere in assoluto e soprattutto gratuita è quella di prendere e verificare il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza integrati nel firmware delle vostre stampanti. Praticamente Marlin e altri firmware di stampanti 3D sono provvisti di un sistema che manda in blocco la stampante nel caso in cui si rilevi un'anomalia su uno degli elementi riscaldanti. Ma ora vediamo un attimino come funziona nello specifico. Infatti una temperatura troppo alta di un determinato riscaldatore può portare a svariati problemi, proprio dovuti all'eccessivo riscaldamento. Stessa cosa, anche una temperatura troppo bassa potrebbe essere sintomo di un problema. E voi mi chiederete perché? Una temperatura troppo bassa rilevata dal firmware, quindi dalla scada madre, potrebbe essere sintomo di un'anomalia sulla sonda termica. Vi faccio un esempio. D'inverno se tenete la stampante 3D in un ambiente comunque freddo, vi sarà capitato di arrivare a accenderla e trovare l'errore MinTemp. Che cosa significa e perché la stampante va in blocco con quell'errore? Questo avviene perché dentro al firmware è presente un valore impostato come temperatura minima di notifica dell'errore. Questo parametro ci serve ed è essenziale per il funzionamento, diciamo, in sicurezza della stampante, perché ovviamente la scada madre è programmata per far sì che se noi impostiamo una determinata temperatura, lei la deve mantenere. Che cosa succede? Però se per sbaglio o per un problema o quello che è, si spaccasse la sonda termica, la temperatura scenderà di colpo e andrà ad una temperatura molto bassa, cioè quindi verrà visualizzata come una temperatura, diciamo, anomala. Se non ci fosse questo parametro di sicurezza, la scada madre lascerebbe perennemente alimentato l'elemento riscaldante, andando a generare l'altro problema che vi dicevo prima, quindi un eccessivo surriscaldamento dei vari oggetti, dei vari componenti. Oramai la stragrande maggioranza delle stampanti 3D, diciamo, che integrano già questi tipi di parametri. Però se avete il dubbio che chi ha fatto la vostra stampante non ha programmato correttamente il firmware, oppure siete stati voi stessi a programmare un firmware Marlin, verificate che questi protocolli di sicurezza siano effettivamente attivati. Ok, ora, visto che abbiamo visto qualche punto per la prevenzione di questi incendi, andiamo un attimino alla fase successiva, sperando di non arrivarci, quindi la fase del rilevamento. Io utilizzo un sensore di fumo della Netatmo, costosetto, ma io lo acquista in offerta. Ho preferito comunque questo, perché comunque, a differenza degli altri più economici, ha la possibilità di collegarsi alla linea internet e di conseguenza può inviarvi una notifica ovunque io sia. Col senno di poi, però, vi devo dire che non acquisterei il Netatmo, ma andrei anzi forse forse sul Nest Protect, perché, diciamo, a differenza del mio, integra anche un sensore di monossido di carbonio. Comunque, il succo di tutto questo discorso è magari installate un sensore di fumo, soprattutto se tenete la stampante accesa non presidiata, quindi generalmente chi fa stampe lunghe, chi stampa di notte, eccetera, eccetera. Quindi, mi raccomando, metteteci un sensore e l'importante è che sia efficace e sia percepito, perlomeno da qualcuno. Ok, adesso manca l'ultimo punto, ovvero le contromisure. Qui, a mio avviso, ci sono, diciamo, più vie che possiamo andare a prendere. Una cosa buona e giusta, che secondo me non è solo limitata alla stampa 3D, è quella di avere, diciamo, un estintore a portata di mano. Chiaramente non sono tutti uguali, ognuno ha una categoria e ogni categoria ha il suo utilizzo. Il più comune, ma anche quello forse più giusto da utilizzare in questi casi, sarebbe il classico estintore a polvere. Però, a mio avviso, non è che sia una grande idea. Questo perché, sì, andrete a spengere comunque un piccolo incendio o comunque un piccolo principio di incendio, ma vi garantisco che se dovete arrivare a sparare 6 chili di polvere in una stanza per spengere un piccolo incendio, tanti auguri per dopo. Esistono anche delle palle, che non sarebbero altro che dei dispositivi passivi, chiaramente, che vengono messe, ad esempio, sopra dispositivi elettronici, batteri a litio e quant'altro, che, una volta raggiunta una certa temperatura, autoesplodono, disperdendo tutta la polvere contenuta al loro interno e, teoricamente, spegnendo l'incendio. Non so effettivamente quanto siano efficaci, però so che comunque tanta gente le usa, le ha provate e sembrerebbero andare bene. Ma hanno sempre il solito problema degli estintori a polvere. Ecco qui che entra in gioco l'estintore a CO2. Un po' meno indicato sotto certi aspetti per questo tipo di incendi, ma sicuramente meno dannoso per i giorni a venire. Una soluzione, a mio avviso, valida, diciamo, da affiancare ad un estintore potrebbe essere una coperta spegni fuoco. Ricordate una cosa, però. Gli estintori servono per spengere incendi di piccola entità, o comunque principi di incendio, oppure per scappare. Cioè, non è che avrete una riserva infinita per spengere delle fiamme alte 10 metri, questo è chiaro. Io queste cose ve le dico, ma usate sempre, perennemente, la testa. Poi questo video qui non è un corso antincendio, sia ben chiaro. Cercate sempre di fare le cose con il massimo della prudenza. Perché poi, soprattutto, quando si arriverà al punto di dire ho fatto una c***ata, è troppo tardi. Insomma, io penso che questi qui siano un pochino le basi di quello che, secondo me, è più o meno la prevenzione, tutto quello che sta dietro ai rischi dell'incendio sulla stampa 3D. Ovviamente non c'è solo questo. Ci saranno sicuramente anche altri metodi per rendere il tutto più sicuro. Quindi, se vi ne viene in mente qualcuno, avete dei dubbi, domande, come sempre, fatemene qui sotto nei commenti. Insomma, il video di oggi finisce qui, spero tanto che vi sia piaciuto. Mi raccomando, se così fosse, lasciate un grande mi piace, iscrivetevi, commentate, mi fa sempre un sacco piacere. E ci rivediamo ad un prossimo video.